Nel sud della Francia, il suo ristorante non aveva rivali. Nel mio ristorante, la cucina non è un vecchio e logro matrimonio, è ancora un amore passionale. Finché arrivò una famiglia... Spingete! ...che rimescolò tutti gli ingredienti. Voglio comprare questo ristorante. Bonjour, questa è proprietà privata. Mi scusi, ed è sua la proprietà, eh? No, no. Oh, allora anche lei è un'intrusa. Cos'è c'è lì? Un matrimonio? Un funerale. La morte del buon gusto. Se il vostro cibo è come la vostra musica, vi suggerisco di abbassare un po'. Bene, abbasso la musica. Alzerò la temperatura, però. Quel ristorante è tutta la sua vita, dal giorno in cui il marito è morto. Madame Mallory capisce con un solo boccone se uno chef ha il talento per essere un grande. Mi ha seduto la mente con le sue salsi e insapori. L'espressione giusta è raffinatezza di sapori. Ed è quello che imparerà nella mia cucina. È bravo come ho sempre pensato. Di più. Amore, cucina e curry. Perché cambiare una ricetta che ha 200 anni? Perché forse 200 anni sono troppi.